Ok, quindi abbiamo detto canzoni non solo da ascoltare ma anche da ballare e da cantare quindi una cosa fondamentale nei nostri concerti sono le mani che ci devono per forza di cosa accompagnare perché sennò con due chitarre non riusciamo, non abbiamo batterie, non abbiamo percussioni quindi le mani del pubblico sono fondamentalissime quindi adesso alte le mani, in alto le mani, in alto le mani, in alto le mani e gli applausi dopo ok, però adesso al ritmo con me vediamo se vi state dietro, le mani, la canzone che cantiamo tutti perché tutti la conosciamo 9 vespe truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90 rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata a una targa la mina speciale, estate che avanza, cammino a vespe di porto in vacanza ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi c'è una vespa special che ti toglie i problemi ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi c'è una vespa special che ti toglie i problemi la scuola non va, ma una vespa, una donna non ho ho una vespa domenica e già, una vespa mi porterà mi porterà, mi porterà, mi porterà, mi porterà fuori città fuori città, fuori città, fuori città, fuori città esco di fretta dalla mia stanza, a marcia in granate dalla prima alla quarta devo fare in fretta, devo andare a una festa fammi fare un giro prima sulla mia vespa dammi una speciale, estate che avanza dammi una vespa e ti porto in vacanza ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi c'è una vespa special che ti toglie i problemi ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi c'è una vespa special che ti toglie i problemi la scuola non va, ma una vespa, una donna non ho ho una vespa domenica e già, e una vespa mi porterà ti porterà, ti porterà, ci porterà dove? fuori città fuori città fuori città fuori città fuori città Eh, 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 eh Grazie a tutti.